Tu chi sei? Ben Master Com'è che ti hanno più importi in questo progetto? Perché mi costa un cazzo Quindi? Mi hai perso 76 kg? Mi ho presentato al fioppo 76 kg li ho persi prima Li avevo persi prima E come è successo? Senza mangiare E' stato l'amore E' stato l'amore L'amore funziona L'amore funghi Diventerò ricco Io Se riesco a metterlo questo computer Mi lascio qui, è un casino Ah, ho posto E di che faccio questo? No Non è una bella cosa Guarda come mi vedo E se gioca roba Hai eliminato tutta quella roba? Eliminato 491 giga liberi Dicolo solo Dicolo sono Dicolo Dicolo 400 500 Quella era la tua materia per seri da scuola? Tagliare una matematica e non c'è mai finito il cazzo fai un sogno ricorrente si faccio l'amore con la mia fidanzata cioè faccio l'amore con la mia fidanzata e nella realtà faccio l'amore con la mia fidanzata e quindi definisci con una parola felice qual è la tua canzone preferita? la mia canzone preferita è Le notte blu ma tu non ti chiamavi Charlie? no, canto